a volte per creare nuovi interessanti modelli vale la pena di ispirarsi al passato come ha fatto francesco paskovski con il baglietto 19 ridoc lo scafo ricorda vagamente il mass motoscafo armatosi durante della prima e seconda guerra mondiale costruiti proprio da baglietto basta guardare questo simbolo per provare emozione e certi dettagli ricordano proprio gli anni passati ovviamente coperta interni sono dei nostri tempi e da di porto lussuosi non vi è dubbio che queste linee facciano immaginare prestazioni elevate in sala macchine due motori manda 1800 cavalli che lo portano a 40 nodi di velocità